Con questo nuovo video, ne seguiranno altri, voglio portare nei vostri PC e nei vostri telefonini, nelle vostre case, la storia e le belle immagini della nostra Immacolata, il cui culto risale addirittura al Seicento e lo faccio più con il cuore che con la mente. I storici hanno infatti ricostruito che già nel 1623 venne realizzato nella Chiesa Madre un grande altare barocco dove troneggiava l'immagine raffigurante l'Immacolata Concezione con le mani giunte sul petto. Sin da allora è dato questo rapporto sentimentale dei termitani con la loro Immacolata, venerata ancora oggi anche dai discendenti degli emigrati nel lontano Canada, a Toromo. Termini Marese, città mariana come lo è Siviglia con la nostra signora dei Re, patrona della città andalusa, o come città del Messico con la sua Beata Vergine di Guadalupe, ha sempre considerato l'Immacolata come suprema patrona della città. Intanto per avere una più completa informazione sulla storia e sulle tradizioni che ci legano alla nostra Immacolata vi invito, se volete, a visionare il sito web e chiamamola Cannaiuta, il cui indirizzo vedete in sovraimpressione. Sono 82 pagine in cui ho raccolto tanti scritti, tante storie e tante foto, soprattutto d'epoca, e tanti video che, senza alcuna pretesa storica e culturale, vogliono far conoscere, soprattutto ai giovani, come è stato e cosa è il culto per l'Immacolata qui a Termini Marese. Prendendo spunto da un documento dell'ingegnere Giuseppe Catanzaro, che peraltro ha pubblicato L'oro della Madonna e ancora il racconto del Nomenario Solende, dicevo, prendendo spunto da questo documento, che è stato pubblicato in occasione di una mostra sull'Immacolata dallo stesso curata nel 2009 e tenutasi nella Chiesa del Monte, in questo primo video vorrei presentarvi la magnifica statua in legno di cipresso realizzata nel 1799 dallo scultore Filippo Quattrocchi, originario di Gangi, che gli fu commissionata dai monaci della Chiesa di San Francesco d'Assisi, oggi non più esistente, sita in Piazza Duomo, dove oggi in una parte di essa si trovano i locali della Prologua. Nel 1866 il convento di San Francesco, dove oggi si trovano le scuole elementari, fu chiuso, così come la Chiesa stessa dove veniva venerata la nostra Immacolata. Ma una leggenda racconta, come ci ricorda il durante la processione della statua, non si sa di quale anno, si sarebbe improvvisamente scatenato un forte temporale e si decise, in attesa che cessasse, di portarla nella maggior chiesa, che era proprio lì a due passi. Questo in quanto la porta di accesso alla Chiesa di San Francesco era alquanto bassa e non era possibile entrarla con la bara, ma doveva essere prima smontata e ovviamente tolto a tutto l'oro che la ammantava. E si tramanda che la statua rimase nella Chiesa Madre per sempre. Comunque, nel periodo della festa si può supporre che la statua venisse portata nella Chiesa Madre, in quanto la Chiesa di San Francesco era troppo piccola per ospitare questa marea di fedeli il cui culto imperituro per la Madonna Immacolata è rimasto indelebile del DNA dei Termitani. Ma una volta che la statua ebbe a rimanere nella Chiesa Madre si considerò anche di conservare il prezioso simulacro in una custodia originariamente in legno che sarebbe servita a salvaguardarlo per un anno intero, per poi riaprirla nel periodo delle festività. Voglio ora proporvi un bel filmato di qualche anno fa con la processione, con la Madonna sotto la pioggia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La Cappella dell'Immacolata dove i fedeli andavano a pregare, dove quotidianamente si celebrava la Messa, era l'ultima di sinistra del transetto, accanto alla Cappella del Santissimo Sacramento, mentre la Cappella della Custodia dell'Immacolata è la quarta sulla destra. Nel 1888 il pittore termitano Giuseppe Culotta ne rifece completamente il colorito e nel 1995, a causa delle precarie condizioni in cui versava il simulacro e il cercolo, si decise di fare un intervento di restauro. In quell'occasione fu restaurata anche la Cappella Custodia dell'Immacolata, dove vennero ripuliti i marmi e data una nuova ed eccezionale visione alla Cappella. Nello stesso tempo vennero tolte le porte in ferro, dipinte con angeli e motivi floreali che non ne permettevano la visione. Le porte di ferro vennero sostituite da due ante in metro blindato sorretto da un telaio di legno decorato finemente, che permettono ora la visione del simulacro tutto l'anno. Questa Cappella ve la presenterò nel prossimo video. Alla prossima! Grazie a tutti!